Tifosi del Parma ad ogni parte del mondo, cuoriciello blu, bentornati in diretta da Pinzolo per la seconda amichevole stagionale del Parma, tra Parma e Setta Urense. La prima è finita 14-0 per i ragazzi contro la Pieve di Bono. Oggi un altro avversario trentino di prima categoria. Pronti a partire da Setta Urense e iniziare il match? Partiti! Sale il capitano, ben battuto il corno da scaglia, Munari di testa, prolunga, ecco la rete di Jacoponi! Cemento armato Jacoponi, 1-0 al tredicesimo. Supera l'opposizione da parte di Zontini, Seve Scaglia, 1-1 di Gigi Scaglia, traversone basso per Calaiot, tacco Sirigardi, ancora Giacomelli, Sirigardi, Sirigardi rete! Sirigardi, ecco il gol, il primo gol con la maglia del Parma da parte di Sirigardi, Luca Sirigardi, minuto 17, 2-0 Parma. Ma con i nostri trattaccanti che iniziano davvero a capirsi, esce ancora il gol di Jacoponi! 3-0, doppietta di Simone Jacoponi, ancora su calcio d'angolo, una sentenza, cemento armato e sono tre. C'è Scaglia, c'è anche Barai, eccolo l'1-2 tra i due ex giocatori del Lumezzane, ancora Barai entra in aria, il destro di Barai, è gol! Ancora rete di Barai, la sua mattonella stavolta però di destro sul primo palo, fulmina Giacomelli. Il pallone vuole un altro gol, Isbarai ha realizzato il quarto della serie, sin qui Sirigardi, Calaio aree di rigore, se la porta sul mancino, Calaio, gran gol, l'arcere! Il timbro di Emanuele Calaio, 5-0, 37esimo di gioco, un gol alla Calaio, nel breve, palla c'è, palla non c'è, un prestigiatore Calaio, poi, sinistro secco, Calaio va dal dischetto, Calaio finta, fa sedere Giacomelli, lo spiazza, 6-0, doppietta per Emanuele Calaio, minuto 39, Butterini cerca un drivi su Barai, non una grandissima idea, la setorese poi si incarta, Calaio colpo sotto e c'è la tripletta dell'arcere che imita Barai e che va segnato con uno scavetto domenica contro il Pieve di Bono, Calaio dimostra che anche lui sa fare questi gol e che gol, tripletta personale, 3 gol in 5 minuti per l'arcere Calaio, scatenato! D'Aversa inizia la ripresa con 4 cambi nel Parma, non c'è quindi una rivoluzione come nella partita di domenica scorsa, entra Nardi per Frattali, cambio quindi tra i pali, poi è Corapi a rilevare Scozzarella, Colì rileva Capitano Lucarelli e giorno entra al posto di Gianni Wolverine. Munari, scaglia, pronto ad andare, palla bella, con un po' di testa ancora lui ragazzi, Jacoponi scatenato, tripletta oggi, tutto vero, Jacoponi, man of the match, terzo di gioco nella ripresa, tripletta personale per Jacoponi, ancora perentorio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Giorni dal debutto, Siligardi, Giacomelli ancora ci arriva, Siligardi che sta provando il sinistro al tritolo, ancora Baraje, morbido, secondo palo Calaio si coordina e c'è il gran gol di Emanuele Calaio, giocata alla Calaio, giocata da grande attaccante, giocata da Emanuele Calaio. 9, Lescano 20, Frediani 24, Gallupini 25. E intanto c'è il gol di Emanuele Calaio, cinquina personale per l'arciere al minuto 15 del secondo tempo, all'ora di gioco, Calaio è andato a realizzare la rete del 10 a 0. Lini e Frediani, quindi oltre a dei zinsigne, dei quali c'era già stata comunicata la mancata presenza, all'incontro, intanto gran gol, subito di Frediani, primo gol con la maglia del Parma per il giocatore che l'anno scorso militava nell'Ancona. Ecco Frediani, punta il diretto avversario, vede arrivare Germoni giù, questo mi sembra rigore, così è. Atterrato netto Germoni, la serie di rigori che ci ha consegnato la finale playoff, Corapi rincorsa breve, rete incrocia bene, Ciccio Corapi, 12-0 Parma. Grazie a tutti.